Oltre 250 mila tonnellate di rifiuti smaltiti illecitamente in due cave della Campania è quanto hanno accertato i carabinieri del NOE, coordinati dalla Procura di Napoli, che hanno omesso agli arresti domicilieri 14 persone tra imprenditori e professionisti. Gli indagati sono complessivamente 45 e sono accusati, a vario titolo, di aver dato vita ad un consolidato sistema dedito al traffico illecito di rifiuti attraverso falsi documenti di trasporto e falsi certificati di analisi, ottenendo così un ingiusto profitto di alcuni milioni di euro derivante dal risparmio sui costi dovuti per lo smaltimento dei rifiuti presso i siti autorizzati. Nei confronti di quattro persone è stato disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza, sequestrate anche le due cave, la San Severino e la Neos di Giuliano in Campania, oltre ai mezzi di diverse ditte, aree di stoccaggio di rifiuti ed impianti.